Gentili telespettatori, buona giornata e scopriamo che su Somaoro anche il PD, oltre sinistra italiana, sapeva tutto. Perché non hanno fatto nulla? Perché la sinistra, intesa come area politica, è una scatola vuota e anche ipocrita. Una scatola vuota e ipocrita. Beh, allora, siamo nel ridicolo arrivati, siamo veramente arrivati nel ridicolo. Dopo che si è visto che Verdi e Sinistra italiana sapevano tutto perché parlamentari avevano avvertito, erano arrivate anche delle lettere da un sacerdote, dal direttore della Caritas in Puglia, che avvertivano questi partiti che il personaggio era quello e avevano avvertito di quello che sapevano. Guardate che è tutta una cosa virtuale, guardate questo, guardate quello, niente. Arrivava il governo di destra, dovevano assolutamente creare un astro nascente, subito dovevano creare un astro nascente da contrapporre al governo. Per ovvie ragioni, no? Che potete immaginare. Si scopre che anche il partito di Enrico Letta sapeva tutto. che adesso non può far finta di niente e dire ma l'hanno scelto gli alleati. Così hanno detto di no a degli ex 5 Stelle e hanno detto invece di sì a questa persona. Ora fanno tutti finta che l'autosospensione di questo somma oro vada bene, ossia autosospeso, ma autosospeso non vuol dire niente. Autosospeso da che cosa? Non è andato via dal partito, non è ancora nel gruppo misto, non ha dato le dimissioni da parlamentare, perché comunque quei 15.000 euro al mese soddisfano tante necessità giornaliere e mensili. E poi per uno che dice che la moglie ha il diritto all'eleganza e alla moda, capite che i soldi servono. Se no, se la moglie ha il diritto alla moda e all'eleganza, capite che come eserciti questo diritto? Senza stipendio. Un bel 15.000 euro al mese sono abbastanza per soddisfare il diritto all'eleganza e alla moda. Va bene, fratto Ianni e Bonelli sapevano, adesso fanno finta, lo convocano, ci deve dare delle spiegazioni, ma le spiegazioni prima non gliele hanno chieste. Ecco, hanno sottovalutato tutte le denunce a cui erano a conoscenza, ma anche il PD nasconde tutto. Ecco, non è solo Sinistra Italiana e i Verdi che devono rispondere dell'elezione parlamentare di un signore eletto solo grazie a una legge come il Rosatellum, dove i leader di partito hanno potere assoluto su chi deve rappresentare la nazione. Ecco, abbiamo visto che questo Soma Oro che ha un mutuo in banca da 270.000 euro offrendo, secondo lui, come garanzia aver scritto un libro, no? È ovvio che letta, scrivono su Libero, probabilmente sapeva tutto, e il segretario del PD di Modena, Roberto Solomita, a offrire una rivelazione niente male. Dice, le notizie circolavano anche prima, noi abbiamo sottoposto il problema al partito, ma la candidatura è stata scelta dagli alleati di Sinistra Italiana. Quindi il PD ha fatto presente a Sinistra Italiana, guardate che questo personaggio se ne dicono tante, attenzione, ma loro lo hanno voluto candidare. Lo stesso. Il partito di cui parla il compagno Solomita è il partito del PD, ovviamente. Oppure, nessuno ha avvertito Enrico Letta? Nessuno si è preso la briga di avvisare il leader sulle voci riguardanti una candidatura in un collegio dell'Emilia Romagna Rossa? Ecco. Bene, insomma, quella di suo lavoro resta una brutta storia, molto frequente in Italia. Le omertà, quelli che sanno e non dicono, quelli che hanno visto e se ne fregano, quelli che sapevano ma fanno finta di non sapere, ecco. E solo ora che viene alla luce questa cosa c'è la gara a scaricare sugli altri, sull'alleato e sugli altri. Nessuno però dice a Soumaoro non ce ne frega niente della tua sospensione, lascia il seggio a chi viene dopo di te. Nessuno. Anche perché questo Soumaoro, avendo capito il personaggio, non lascerà mai 15.000 euro al mese per 5 anni, con poi il vitalizio, se si raggiungono 4 anni, 6 mesi e un giorno, se hanno anche diritto poi alla pensione. Ebbè, ma il caso si sta allargando. Avete visto che ci sono un sacco di notizie su questo caso, evasione fiscale, altri fondi, ne stanno venendo fuori di tutto e di più. Bene. Insomma, tutti sapevano, ma volevano creare il personaggio da contrapporre al governo Meloni. Ci sono riusciti a eleggere questo personaggio in un collegio anche blindato, cioè in un posto sicuro dove doveva essere eletto sicuramente. Doveva essere eletto sicuramente perché si sarebbe dovuto scontrare con il governo, non si sa bene per che cosa, ma governo di destra, noi candidiamo Soumaoro. Così magari magari si scontrano per qualcosa. E già, era cominciato, vi ricordate? Non gli ha dato del lei, gli ha dato del tu, lui che viene chiamato nelle trasmissioni e dici io sono laureato, la Meloni dovrebbe darmi anche del dottore. Ecco, era già cominciato proprio quello per cui era stato candidato, lo scontro con qualcuno del governo. Ecco, candidato per quello. Quindi sapevano tutto, ma era più forte la tentazione di creare il personaggio, dove ci ricapita. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.